Buonasera da Gianmarco Ceroi, amici del grande calcio universitario, benvenuti all'Olmi Plaza Dove sta per cominciare la prima gara della quarta giornata per la Lega Bocconi in campo, Real Dronno e Vela United Squadre disposte al centro del terreno di gioco con il signor Cosimo Sebastiano che arbitrarà l'incontro di oggi Tutto è pronto? Siamo pronti anche noi Rimorchio, vediamo se Tozzi la tiene in campo, sì, bravo Tozzi, controllo con l'esterno Poi va a puntare l'area di rigore, Tozzi, buona la palla con l'esterno per Italiano che si destregge Italiano, Italiano, doppio dribbling, Italiano Subito in vantaggio il Vela United al terzo minuto con Italiano, gran gol il suo Doppio dribbling, sinistro sul primo palo, forse anche una mezza deviazione United in vantaggio Da quest'altra parte per Gallimberti, controllo di Gallimberti, deve rientrare Poi va ancora su Kurti che prova il mancino, palla che rimane lì E Codir la mette dentro, il primo gol in campionato Grave errore di Cappelluti, Codir prontissimo sulla ribattuta, fa 1-1 Ma dall'altra parte Tozzi dove c'è Masenzani, il controllo di Masenzani, Turbo Mase, Turbo Mase, Masenzani Franco Poi Auletta, Auletta, doppio dribbling, Auletta va a calciare Tutto Baglioni, fuori comincia Attenzione a Kurti, tutto solo, Kurti, Kurti può calciare, Kurti Gran risposta di Cappelluti Attenzione a Tozzi, Tozzi, doppio dribbling di Tozzi Se ne va Tozzi, Tozzi, grandizione, Tozzi Ti amo Tozzi 2-1 Vela United Tozzi, grande dribbling su Gallimberti Poi la mette per Auletta, l'appoggio per Italiano Grande azione, tutto in orizzontale del Vela United E il gol del 3-1, firmato ancora da uno splendido italiano Ma non è questo? Per Romeo? Sì 3-1, ragazzo Vabbè, chiudi Calcio a Tozzi Gran gol di Tozzi, 4-1 Vabbè, sembra averla già chiusa Vedi qua, vedi qua, vedi qua, vedi qua Però alle Falco, eh Kurti, all'indietro per Baglioni Sbaglia, Kurti, guarda un brutto pallone Allora Auletta 5-1 Qua Franco, l'ha vista all'ultimo Non ha potuto fare di più 5-1 Vela United Questo è per Dima Altro gol con Dedica C'è un gol pazzesco Di Italiano Al volo col Mancino Fantastico Poi Italiano cerca la telecamera per l'esultanza Per tutta la squadra Altra Dedica Super gol di Italiano E c'è un gol Un gollonzo Il gollonzo del 7-1 Della United Palla dentro Poi il cross di Sant'Ambrogio Per Gurti Che parata incredibile di Capelluti Mamma mia Cosa ha preso Alla in verticale Auletta Tutto solo Auletta 8-1 Auletta col tacco per Tozzi Dentro per Zambelli Paratona di Franco E c'è un gol del 9-1 Non parlate qui Perché altrimenti viene una porcheria Grazie E c'è un altro gol A partita confusissima Non si capisce più niente 9-2 È arrivato Gaina Col tacco Italiano per Auletta Non arriva Zambelli Che lo rimette dentro di testa Sul secondo palo Al volo Altra grande parata di Franco Ioni Maneo Calcia Maneo Gran risposta di Capelluti E dai Peggio per voi E poi c'è il gol Del Real Dronno Gol abbastanza inutile A fine del Del risultato finale E poi c'è il gol 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 Grazie a tutti.